Musica Edilizia rivedere lo stop alla cessione dei crediti d'imposta sugli incentivi fiscali approvate dall'Aula due mozioni, una a firma PD, l'altra del Movimento 5 Stelle Sanità, una targa alla centrale operativa del 118 di Pistoia Empoli divenuta riferimento nazionale CROSS per le emergenze Presentato il calendario 2023 di Cure2Children il Consiglio regionale sostiene così la fondazione impegnata nel portare nei paesi emergenti le cure ai bambini affetti da tumori e malattie del sangue Musica, street art, giocoleria e riscoperta del territorio sono gli ingredienti del progetto di animazione sociale Fare Strada 2023 rivolto ai giovani del territorio di Calenzano e finanziato con bando Rigenerazione Toscana Superbonus, rivedere lo stop Il tema attuale dei crediti d'imposta sugli incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio efficienza energetica e Superbonus 110% è stato al centro del dibattito del Consiglio regionale due le mozioni discussi e approvate in Aula Nella prima, presentata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Silviano Feri si chiede alla Giunta regionale di attivarsi con il Governo per rimodulare la scelta dello stop della cessione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali del Superbonus 110% Noi abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle al Governo di ripensare all'annullamento di questa misura e anche magari fare una concertazione con le parti interessate ma anche di prevedere, come è stato ventilato da alcuni rappresentanti del settore economico interessato quindi dell'edilizia, di permettere alle imprese, alle piccole imprese, ai condomini, alle famiglie di non far parte di questo provvedimento quando le loro dichiarazioni di redditi non hanno la capienza necessaria Nella mozione del Partito Democratico, illustrata dal consigliere Francesco Gazzetti si chiede alla Giunta di attivarsi con il Governo in conferenza Stato-Regioni per fare in modo che venga rivista quanto prima la decisione di bloccare in modo permanente e generalizzato la cessione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus 110% evitando di danneggiare il settore dell'edilizia e l'indotto Noi chiediamo alla Giunta di interloquire con il Governo sia perché sia valutata la possibilità anche di tornare indietro rispetto a alcuni provvedimenti e poi si discuta nella conferenza Stato-Regioni o nella conferenza unificata affinché si possa valutare anche la possibilità da parte delle Regioni e degli enti locali di procedere anche per quella strada che era stata individuata da altre Regioni e da altri enti locali e che il provvedimento del Governo con una decisione che ha lasciato sorpresi davvero tutti perché si parla molto di autonomia ma questo provvedimento invece ha bloccato, ha zerato anche l'attività e soprattutto l'autonoma deliberazione di questi enti e questa mozione serve per anche portare questo tema all'interno del Consiglio regionale e c'è stata una bella discussione e siamo contenti dell'approvazione Duro l'attacco del Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi Perché si continua a far finta di non capire che l'operazione del Superbonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali di cui 77 non hanno ad oggi copertura da parte dello Stato perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso, rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere per esempio sanato dall'acquisto degli enti locali e delle Regioni come era stato nelle settimane scorse paventato perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano è una situazione potenzialmente esplosiva naturalmente coloro che avevano fatto i 110 fino ad oggi e che hanno i titoli edilizzi rilasciati fino al 16 di febbraio avranno la possibilità di usufruire del Superbonus mentre per mettere anche le famiglie in condizione di fare valutazioni più appropriate sui costi è stata lasciata la possibilità di fare l'operazione fino al 90% perché è chiaro che il meccanismo del 110 spingeva ad alzare il valore delle spese anche per le consulenze tecniche perché tanto pagava Pantalone Pantalone oggi non ha i soldi per pagare e questo extra profitto che tanti stavano facendo va bloccato nell'interesse del Paese Emergenze, l'eccellenza Cross Il Consiglio regionale ha assegnato una targa alla centrale operativa del 118 di Pistoia e Empoli per gli ottimi risultati ottenuti che l'hanno portata a divenire riferimento nazionale come Cross La cerimonia di consegna si è svolta nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso Il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo a Piero Paolini, il direttore della centrale operativa 118 Pistoia e Empoli La struttura, attiva per le emergenze sanitarie, ha una duplice funzione quella di sala operativa regionale per le maxi emergenze e di Cross, centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario La funzione di Cross, in Italia garantita da un'altra sola centrale, quella di Torino viene attivata dalla Protezione Civile Nazionale in caso di emergenze e catastrofi per coordinare i soccorsi sanitari urgenti, nonché dai referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale Importante questo riconoscimento da parte del Consiglio regionale alla Cross una struttura del nostro sistema sanitario regionale ma una struttura che ha gestito emergenze in tutto il paese e all'estero creata insieme al terzo settore un motivo d'orgoglio, un elemento di innovazione che vogliamo si rafforzi perché è un elemento fondamentale che abbiamo visto essere determinante in tanti momenti purtroppo drammatici del nostro paese a cominciare dall'emergenza Covid Questo è un riconoscimento a tutti i professionisti al coordinatore, ovviamente a tutti i volontari che per noi sono una ricchezza fondamentale che contraddistingue la nostra regione Durante l'emergenza sanitaria dovuta al Covid nel 2020 la centrale Cross di Pistoia Empoli ha avuto un ruolo fondamentale per mappare i posti letto in tutta Italia e organizzare i trasferimenti nei luoghi di cura In totale sono stati 116 pazienti trasferiti di cui 76 affetti da Covid e 40 non affetti da Covid Medici, infermieri, operatori tecnici hanno lavorato al fianco dei volontari 23.800, quelli impiegati nella gestione dei soccorsi Veramente per noi ha un valore aggiunto dopo tutti gli sforzi devo dire che non siamo i soli perché accanto a noi ci sono molti operatori molti volontari che operano magari anche con attività che hanno una visibilità minore e che fanno un lavoro egregio anche su tutto il territorio regionale Questo è un riconoscimento a un'attività di punta perché è quella che magari ha più visibilità anche sui media e che esce da confini regionali Siamo stati gli attori di sfida importantissime durante la pandemia Ricordo che noi abbiamo fatto operazione di medevac che vuol dire trasferimento di pazienti pazienti gravi, molto gravi, tutti da terapia intensiva la maggior parte con il covid ma poi anche pazienti che sono venuti dall'Ucraina pazienti dalla Turchia, pazienti dalla Libia insomma un'operazione che ha riguardato quasi mille pazienti che è la più grande operazione che c'è in letteratura dopo la seconda guerra mondiale È un riconoscimento importante dietro a questo c'è la volontà di implementarla sia nel software che nell'hardware quindi formazione, tecnologia per le persone che ci lavorano e anche nelle strutture c'è questa possibilità nell'area del CEPO che ospita attualmente la sede è un cantiere quindi spero si pensi tutti insieme con la regione ma anche con il ministero tutte le azioni possibili per implementarla alle persone che ci guardano e a cui la stampa in questo momento racconterà la cross sappiano che quando c'è una maxi emergenza nel proprio paese ma anche all'estero sono le prime persone che si attivano e fanno arrivare lì i volontari i vigili del fuoco piuttosto che i nostri militari e dal Pistoia viene coordinato per tutto il paese ma anche per all'estero azioni di questo genere Un calendario per la vita È stato presentato al Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegaso il calendario 2023 della fondazione Cure2Children Il calendario di quest'anno è dedicato a Miss Italia Toscana con gli scatti realizzati da Giovanni Rastrelli durante la finale dell'edizione 2022 andata in scena lo scorso settembre a Casciana Terme con testimoni all'importanti come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni Nell'occasione sono stati consegnati al Presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo e ai consiglieri regionali i calendari di Cure2Children la fondazione che porta la cura ai bambini nei paesi emergenti attraverso la formazione e il supporto logistico ai medici e al personale sanitario del luogo per renderli autonomi nel curare i piccoli pazienti affetti da tumori e malattie del sangue I fondi raccolti sono destinati al progetto di consulenza specialistica online in onco-ematologia pediatrica Second Opinion realizzato grazie al contributo della fondazione Biagioni Borgogne Siamo davvero felici di poter ospitare anche quest'anno la presentazione del calendario di Cure2Children è un modo per fare anche noi la nostra parte per sostenere iniziative di sensibilizzazione iniziative di volontariato iniziative tese a sostenere chi soffre penso che ogni qualvolta un'associazione venga da noi e ci porti iniziative come queste noi dobbiamo aprire le porte dell'Assemblea Legislativa perché ogni iniziativa di questo genere è un fiore che noi piantiamo in un campo che dovrebbe essere quello del volontariato del sostegno a chi soffre e ogni iniziativa di questo genere merita il plauso A Cure2Children un plauso doppio per il lavoro importante che porta avanti ormai da tanti anni un lavoro davvero che rende più bello il mondo in cui viviamo La fondazione Cure2Children Onlus in 16 anni di attività ha raggiunto grandi risultati sia sotto il profilo medico in termini di bambini curati e salvati da morte certa sia sotto il profilo scientifico con le numerose pubblicazioni sulle più prestigiose riviste del settore Oggi la Cure2Children nel suo database conta circa 14.000 bambini presi in carico La Commissione Sanità del Consiglio regionale da anni segue la nostra attività nel mondo Come tutti sapete sono ormai oltre 16 anni che curiamo bambini in paesi poveri in paesi emergenti e dove i nostri progetti hanno dato davvero risultati molto lusinghieri Il calendario di quest'anno è dedicato a un progetto molto ambizioso perché lo scorso anno a giugno siamo stati in Cameron dove abbiamo fatto nascere una collaborazione con un centro pediatrico locale e ci siamo fatti carico di 100 bambini inizialmente 100 bambini oncologici Immaginate voi che impegno è per noi ma siamo sicuri che questo progetto rappresenterà per noi per la Cure2Children per i nostri sostenitori l'apice del nostro successo perché portare l'oncologia pediatrica in Cameron dove non è garantita neanche una corretta diagnosi potete immaginare voi che quanta gratificazione abbiamo noi genitori della fondazione ma anche lo staff medico per aver portato l'oncologia pediatrica in un paese così in difficoltà come l'Africa Cure2Children è una tradizione importante anche per il Consiglio regionale questo legame che si rinnova questa fondazione che porta la cura ai bimbi nei paesi emergenti tumori, malattie del sangue quanto è importante la solidarietà la presenza, la cura attiva dobbiamo soltanto dire grazie noi che facciamo parte delle istituzioni donne e uomini a queste fondazioni che operano in modo così incisivo così generoso così determinante lasciatemi dire perché veramente c'è molto da fare per il prossimo continuo a dirlo quasi tutti i giorni la cosa principale che dovremmo fare noi dalle istituzioni è avere proprio la cura verso l'altro un'iniziativa che si rinnova nel tempo che viene confermata nel sostegno della volontà del Consiglio regionale della Toscana perché è un'iniziativa che supera i confini della Toscana che mette i bambini al centro che porta un messaggio di speranza in condizioni di vita di tanti bambini che magari non hanno le opportunità che i nostri hanno quindi è un messaggio che coniuga lungimiranza solidarietà ma anche tanta tanta filantropia e quindi io credo che in questa dimensione ci sia tutto il sostegno e tutti i valori della regione toscana quindi del nostro Pegaso del Consiglio di una voglia di rinnovarsi e di portare nel mondo un messaggio straordinario fatto da persone che dedicano poi la cosa più importante che hanno nella loro vita che è il loro tempo in un'attività del genere quindi per noi un'iniziativa che si rinnova i giovani e la rigenerazione a Calenzano musica, street art, giocoleria e riscoperta del territorio questo è il mix vincente del progetto di animazione sociale fare strada 2023 rivolto ai giovani del territorio di Calenzano progetto vincitore del bando rigenerazione toscana del comune di Calenzano realizzato da CAT cooperativa sociale in programma fino a novembre prossimo avrà l'obiettivo di rendere direttamente partecipi i giovani nella vita sociale e culturale del territorio calenzanese partendo dalle loro proposte e dall'ascolto dei loro bisogni fare strada ha ottenuto un finanziamento di 10.400 euro dal consiglio regionale della Toscana e di 2.600 euro dal comune di Calenzano adesso la parola passa ai giovani per aprirsi alla comunità tutta un'iniziativa che noi abbiamo voluto con forza per porre i giovani al centro della nostra azione lo abbiamo fatto attraverso diverse iniziative oggi sono felice di poter presentare la prima di queste iniziative fatta dal comune di Calenzano in modo per coinvolgere i giovani attraverso la street art la musica la giocoleria un modo davvero per cercare di rigenerare i nostri territori la rigenerazione urbana è un obiettivo che abbiamo portato avanti con forza in questi anni è legare l'impegno dei giovani con la rigenerazione urbana e lo sguardo che noi vogliamo portare sulla Toscana del futuro tra gli obiettivi del progetto c'è quello di individuare sul territorio comunale dei muri che possano diventare delle palestre per aspiranti writer in modo da sviluppare e sostenere attivamente idee e creatività giovanile spazio sarà dato inoltre anche alla tecnica del freestyle mettendo a disposizione strumentazione e spazi in modo gratuito per la creazione di eventi di musica rap saranno anche create zone di socializzazione in città attraverso l'allestimento di un salotto urbano dove si potranno fare giochi da tavolo o sperimentare le proprie capacità con la giocoleria oltre ad attività legate alla musica alla street art sarà incoraggiata anche l'esplorazione delle bellezze naturalistiche di Calenzano con le escursioni coordinate dall'Unione Speleologica Calenzanese che in primavera porterà i ragazzi alla scoperta dei sentieri e delle grotte della Calvana un progetto rivolto ai nostri ragazzi ai ragazzi di Calenzano agli adolescenti un progetto che vuole vederli e renderli protagonisti in questi anni come sappiamo i nostri giovani i nostri ragazzi hanno purtroppo respirato un'aria che non era per loro sono stati chiusi in casa hanno dovuto subire anche cose più grandi di loro con questo progetto noi vogliamo riportarli nei luoghi d'aggregazione e vogliamo davvero renderli protagonisti attraverso la street art attraverso la conoscenza del territorio e anche attraverso momenti liberi dove loro ci potranno indicare come vorranno passare il tempo insieme andremo nel territorio di Calenzano a cercare i gruppi giovanili i ragazzi e le ragazze che passano il loro tempo sul territorio e li ascolteremo soprattutto cercheremo di capire quali sono gli interessi dei ragazzi quali sono i loro desideri e in qualche modo cercheremo di tradurli assieme a loro in cose pratiche e diciamo che poi faremo anche delle proposte che riguardano un po' le discipline dell'hip hop che tanto vanno tra i ragazzi per cui si parla di rap di graffiti di street art e poi musica in generale musica in generale musica in generale